Namaste, sono Ace the Brave e bentornati ad un altro episodio di The Binding of Isaac Afterbirth Oggi facciamo una run con Lazzaro, abbiamo l'obiettivo sempre di Ash Vediamo un po' come iniziamo con Mutant Spider Quad Shot Come al solito è un pelino tagliata con la prima parte perché appunto è la ricerca di un seed abbastanza divertente e decente E ho deciso di mostrarvi questo oggi Lazzaro è un personaggio abbastanza particolare come sappiamo benissimo Quindi vediamo un po' come ce lo possiamo cavare con lui Quindi a proposito quando vedrete questo video Qua abbiamo già una possibilità abbastanza interessante con due cuori di fare qualcosa di interessante Prima cosa di cui volevo parlare è appunto il fatto che Lazzaro come al solito c'ha il discorso che ha due vite E quindi possiamo rinunciare alla nostra vita subito in qualche maniera se troviamo qualcosa di decente Ma la cosa di cui volevo parlare oggi è un altro progetto con due GG Con un paio di GG diverse Infatti questo cuore spirituale non lo prendo per eventualmente utilizzare l'altra cosa E' partito un altro progetto, un progetto nuovo Un progetto di un nuovo canale Ho aperto un nuovo canale che si chiama Ghost Writer E per adesso c'è solo un video E vi lascerò il link in descrizione magari da questa parte Comunque l'avete già visto magari su Facebook L'ho condiviso su Facebook un po' di volte diverse Qua abbiamo un secondo cuore spirituale tra l'altro Ma vi lascerò il canale qua sotto in descrizione E' anche tra i miei canali consigliati insomma E' un canale nuovo che ho aperto io Con un progetto che non riguarda i videogiochi Per quello ho deciso di pubblicarlo su un canale completamente nuovo E sarà... Io l'ho trovato molto interessante insomma C'è un bel po' di materiale E anche avete la possibilità di consigliare il materiale lì Non so esattamente come se sarò solo io a fare i video Ma potrebbe anche esserci qualcun altro Però appunto vi dico questo progetto qua Che avevo in mente da un po' E uno dei tanti progetti che ho scritto E finalmente l'ho portato a compimento Diciamo che ho 5-6 episodi scritti E il... Un fatto che è successo da pochissimo Mi ha permesso di fare il nuovo... Il primo video effettivo Qui cosa sto facendo? Ho recuperato pentagramma E vado a uccidermi apposta Perché così guadagniamo uno di attacco E al tempo stesso posso andare di qua A vedere che cosa sono queste pillole Che magari sono health up Invece non lo sono Questo è un esplodio di deria Quindi ce ne andiamo via tranquilli E vediamo di andare a prendere I due cuore spirituali che abbiamo lasciato indietro In questa maniera abbiamo Pentagramma, quadshot, la cosa di mamma E alla fine abbiamo 6-23 di danno Che non è un danno... È un danno niente male insomma Questo è il combattimento contro i Gurglings Tra l'altro molto particolare Perché uno dei Gurglings è incastrato Quindi non può uscire da là letteralmente Comunque non vi dico... Vi dico che cos'è Ghostwriter È un'idea che avevo Di fare qualcosa riguardante i monologhi Io ho prezzo tantissimo A me piacciono tantissimo i monologhi E ho trovato una serie di monologhi Già presenti e reinterpretati Alla mia maniera Però ovviamente è tutto in chiave ironica Quindi sono monologhi Sono video di altre persone Che magari non sono monologhi veri e propri Ma sono sfoghi di persone O alcune cose molto trash anche E reinterpretati come se fossero Un vero e proprio monologo teatrale Con una... Un layout particolare eccetera Quindi vi invito a vederlo Il primo video è su un monologo Un testo che è stato scritto Per Antonio Razzi Uno dei nostri politici italiani E lo riletto in chiave In chiave un pochino più teatrale E vediamo un po' che cosa salta fuori Tra l'altro lì non ho preso... Non so perché non ho preso quella batteria Sono completamente dimenticato Per prendere quella batteria Però abbiamo preso Prayer Card Che ci darà più... Più cuori Quindi bene 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 Perché partiamo appunto con L'Azzaro Rinato Che ha solo un cuore rosso E quindi per la possibilità di patti col diavolo Abbiamo la possibilità di sfruttare due cose Uno è la carta della forza Che è uno dei trucchi per avere un cuore rosso Perché la carta della forza Quando viene utilizzata vi dà un cuore rosso E quel cuore rosso può essere speso Dura solo la stanza dove c'è appunto la carta della forza Ma se lo utilizzate nel patto col diavolo Avete la possibilità di... 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 Prendere un patto col diavolo Usando quel cuore lì Che comunque perderete nella stanza successiva Abbiamo preso anche... Continuum... Endless Continuum Non mi ricordo esattamente come si chiama quel trinchetto Che è un 8 È un simbolo dell'infinito praticamente E da quello che ho capito Devo ancora leggere la wiki a riguardo Intanto abbiamo stats up E qua dentro troviamo il collare di gappi Che ci sta benissimo Perché è il primo oggetto di gappi Al secondo patto col diavolo Ci sta più che bene I can see forever ci permetterà di andare in giro Un attimo A cercare se c'era qualcos'altro C'è di qua C'è... Ci sono un paio di rune Rune che continuano ad apprezzare tantissimo Effettivamente hanno un ottimo potenziale Comunque sì Vi dicevo Questo... Questi monologhi qua Sono molto utili Per... Per scherzarci sopra Però il canale è impostato tutto seriamente Quindi Bisogna cercare di capirlo E... Sono stato abbastanza... Cioè è abbastanza esplicito Poi ovviamente c'è il link Al video originale In cui è stato detto Quel... Quel... Quel discorso E quindi si capisce un po' la... La cosa Quindi vi consiglio di guardarlo Mettere mi piace Condividerlo È un canale completamente nuovo Non ho idea di cosa... Mi aspetterà Perché appunto Apro un canale nel 2016 E già ci sono delle differenze A livello proprio di gestione del canale Quindi Voglio vedere anche un esperimento Per capire effettivamente A quanta gente può interessare E come funziona un po' Partendo Come funziona YouTube Partendo da zero Adesso Con un format nuovo Che non ho mai visto su YouTube Fatto da nessuno Quindi Vedremo vedremo E... Thunder Tights Non lo prendiamo Perché Si sono cuore in più Ma ci rallenta Io ho bisogno di essere veloce Quindi ho deciso di non farlo E vediamo un po' Che cosa ci capita Di bello Cosa mi avete chiesto ultimamente Mi avete chiesto Mi avete chiesto cose di mia vita privata Che ho già detto Più che altro Io sono in Australia Ho una famiglia Ho una ragazza Ho una figlia Anche però sono in Italia E praticamente il mio obiettivo È cercare di portarle qui Perché in questo momento Ho una visa Con una scadenza Ma ho la possibilità Di fare una visa definitiva Se ci lavoro bene Ci sono tantissime cose Che fanno parte Della burocrazia Eccetera Però Un po' le ho già detto Nella serie Nella serie Outsider E quindi vi consiglio Di vederla Perché Non sto a ripetere le cose E quindi appunto Potete vedere lato Tutte le questioni Burocratiche A riguardo A proposito di Di video sul canale In molti Una cosa che mi ha un po' stupito Mi avete consigliato Mi avete richiesto Di ricominciare Con LP Memories Perché ci sono Cosa è successo Ci sono tantissimi video Quando mi è stato chiuso il canale Io ho aperto LP Memories Che praticamente È una rubrica Su questa Su questo canale qua Che si chiama Ace Brave In cui ricaricavo Alcuni dei video vecchi Del canale Che mi è stato chiuso Perché avevo la copia Backup E Alcune sono servite Anche per continuare Ad esempio La serie di XCOM And Within Che non ero riuscito A finire Perché il canale Mi è stato chiuso Nel mentre Ho fatto I primi Tot episodi I primi Tot episodi Li ho fatti Appunto Intanto Vediamo se ce la facciamo Qua I primi Tot episodi Li ho fatti Li ho ricaricati Grazie a LP Memories E poi ho continuato Il layout Ve lo spiego Un'altra volta Non è casuale Ma il layout Era In quel momento là Era aperta Tra l'altro qua Ho sbagliato di pochissimo La stanza segreta Se vedevo la mappa C'era Il layout era Per evitare Problemi di copyright Con me stesso Nel senso che I video c'erano ancora Ma non potevo farci niente Il canale era chiuso Eccetera E se io caricavo Il video esattamente Così come era Senza fare delle modifiche Mi risultava Che il vecchio canale Mi dava Lo strike Sul nuovo Perché sono sempre Video miei Però risultavano Come due account Diversi Quindi è un po' strana La cosa Per questo ho fatto Ho fatto quel layout Particolare Che a molti non è piaciuto Perché occupava Gran parte dello schermo Ma era necessario Per permettermi Di ricaricare i video Adesso non c'è più Questo problema Perché il canale È stato riaperto Ma voglio separare Completamente Quello che è Brave Stuff Che è il vecchio canale Che ha cambiato nome Con Con quello nuovo Che è Ace the Brave E con Ghostwriter Che appunto è un altro Ho pensato anche Di caricare Ghostwriter Sul vecchio canale Su Brave Stuff Ma Brave Stuff È un altro progetto ancora Che Quando ci sarà il tempo Le risorse Vedrò di portare avanti Quindi cosa succede Brave Stuff Adesso è vuoto A parte Un video Che è il video Che vi dice Se volevate seguire Ace the Brave Venite di qua E ho la possibilità Di prendere i video Che c'erano Su quel canale lì E ricaricarli Su questo Quindi pian piano Mi avete richiesto Di cancellare i video Sul vecchio canale E ricaricarli su questo In modo che L'enciclopedia Venisse fuori completa Quindi Tutto quello Che posso caricare Che può anche essere Superstar Saga Per dire Però Superstar Saga C'ha un po' di problemi Di copyright Quindi quella Alcune delle serie Le voglio rifare Da zero E quindi saranno Intanto abbiamo preso Brimstone Quadshot Giusto per dire Alcune delle serie Le voglio riportare sul canale Partendo completamente Da zero E lì c'è Ci sarà ovviamente La possibilità di farlo E alcune serie Invece posso prenderle E ricaricarle Così come sono Magari in una seconda edizione Di LP Memories Perché effettivamente Ne ho fatti tanti altri Di let's play Molti che sono appena arrivati Non hanno visto Quei let's play là Quindi mi farebbe piacere Ricaricarli Che da un certo punto di vista È anche materiale nuovo Tenete conto che Tra l'altro Sul vecchio canale C'è una partnership Che è assurda Mentre su questo C'è la partnership Di DV Move Il che mi permetterebbe Di guadagnarsi qualcosina Sui Sul materiale che ho fatto Su cui non ho mai guadagnato nulla Che non sarebbe malissimo Non è una questione Di money grabber Ma è Un modo per Per organizzare meglio le cose Finalmente portare Mettere un punto Su quella che è Tutta la vicenda Del canale vecchio Canale nuovo Chiuso Rieperto eccetera Così riesco ad avere L'enciclopedia di videogiochi Sul canale che si chiama East Brave E avere E avere poi L'altro canale libero Per poterci fare Qualcosa di Speciale Che sarà quello Che sarà Brave Stuff Che continuo a dire Farò 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 E un giorno Lo farò Ci vuole Un macello di tempo Per poterlo fare Però Vediamo di prendere Liberty Cup E andarcene via Appunto Ho preso Liberty Cup Perché mi dà la possibilità Di sparare più velocemente Tenendo conto che Spariamo a 67 In questo momento Che è tantissimo Perché abbiamo Brimstone Che ci metto un po' a caricare Ma abbiamo poi anche Ovviamente Quad Shot E ogni tanto Appunto Liberty Cup Ci fa scendere a 40 Ad esempio La capacità di sparo Quad Shot Brimstone È strafortissimo Abbiamo anche 99 bombe Adesso quindi Siamo molto molto tranquilli Da questo punto di vista E appunto Questa è la cosa Ci sono alcune delle serie Che vi ricorderete Potete anche scrivermene Qua sotto Se ve ne ricordate qualcuna Che non trovate Su questo nuovo canale Una di queste È la serie originale Di XCOM Enemy Unknown La prima delle tre serie Se teniamo conto Unknown Within E Long War Ed è la serie Dove c'era Omar Gonzalez Dove c'era Hagen Dove c'era Alex Andros E dove c'era Il nostro Assalto Dai capelli rossi Insomma C'era un bel po' di gente È una serie Molto molto vecchia Alcune non le ricarico Perché Fondamentalmente A livello qualitativo Non mi piacciono Perché Non avevo ancora Un microfono decente Non avevo un sacco di cose Però Molti me le hanno richieste Quindi potrei anche Farci un pensierino A riguardo Però ci vuole anche tempo Là per Prendere i video Riscaricarli Rirenderizzarli meglio E andare avanti Potrei anche fare Un'altra cosa Bastante interessante Però devo vedere Esattamente come posso fare Che è quella di Ridoppiarli In un certo senso Che però ovviamente Richiede tempo Energia eccetera Magari fare un post Un post commentary Parlando sopra La mia voce Del passato Potrebbe anche Un'idea anche quella Però Tenete conto Che sono video Che hanno sei anni Anche Tranquillamente Quindi Un bel po' Di Di Tempo fa Questa è una Delle possibilità Però appunto Tempo 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 Mi manca sempre tempo E c'è sempre bisogno Di tempo Quindi questa è La possibilità Che mi avete chiesto Potrei accontentarvi In qualche maniera Intanto abbiamo Un elf up Abbiamo un sacco Di cuori rossi Come potete vedere Abbiamo preso Anche halo Ancora un po' Cioè lo vedete Praticamente ogni puntata Che ci vado C'è il nome scritto Continuate a sbagliarlo Scrivendo A-S-H E non H-U-S-H Che è quella giusta Non è Ash Ketchum Dei Pokémon O Ash Che vuol dire cenere Ma è Hush Con la H davanti E con la O Con la U Scusate Che vuol dire Totalmente Un'altra cosa E mi avete tirato fuori Un po' di lore A riguardo Che però Alcuni Intanto Polifemo Che è un vantaggio Ancora di più al danno Adesso abbiamo 12 e 70 di danno Quindi Stra mega galattico E Alcuni mi hanno fatto Un ragionamento Anche abbastanza complesso Su Hush Perché pensano Che sia cenere Quindi Ah sì perché La cenere Vuol dire questo e quell'altro Non è cenere Hush Hush Non è cenere Hush è il sospiro Più che altro Come traduzione Può essere una Delle traduzioni Insomma E E quindi appunto Ci possiamo ragionare Ma con un Determinato livello Avete fatto Un bel Intanto siamo diventati Anche il Via Tano Quindi abbiamo Voliamo Abbiamo un po' di cuori neri In più E abbiamo Ancora più danno Rispetto a prima E la cosa particolare Appunto che mi avete detto È Ma se Eva fosse Il La sorella maggiore Di Isaac Con che giustificazione Perché Un conto Un conto è dire teorie Un conto è però Giustificarle Perché non si può andare Semplicemente a giustificare Le cose Dicendo Ah secondo me è così Punto Bisogna almeno dire Dire qualcosa che supporta Questa cosa Quindi ci provo a farlo io Di quello che ho visto Io Effettivamente si vede Una grossa differenza Tra le donne del gioco Le donne del gioco Sono Eva E Maddalena E ognuna C'ha delle caratteristiche Particolari Eva È truccata E Maddalena Non è truccata Eva C'ha Tutte e due Hanno una parrucca Che potrebbe essere Isaac con la parrucca Però c'è una grossa differenza Di livello di età Tra le due persone Effettivamente Perché mentre Maddalena Mantiene ancora È abbastanza Non è ancora definita Diciamo come età Potrebbe avere la stessa età Di Isaac Quindi Allora Una teoria è Isaac Semplicemente con la parrucca E questo è tutto E tra l'altro la parrucca È molto simile Ai capelli di mamma Per quello La teoria Di Maddalena Come sorella Di Isaac Potrebbe anche essere Perché assomiglia A mamma Fondamentalmente Oppure potrebbe L'altra teoria È che È Isaac Che viene Travestito Dalla madre Oppure Isaac Che si traveste Lui stesso Potrebbe essere Intanto andiamo Dalla mamma Visto che abbiamo Parlato appena Di lei Mamma Che quasi One shot Però Ce l'abbiamo Fatta tranquillamente Andiamo a fare Anche boss rush Quasi quasi Sì Vediamo un po' Che cosa c'è Di bello O no Non mi piacciono Gli oggetti Quindi andiamocene via E andiamo giù Di qua Quindi la teoria Di Maddalena Come sorella di Isaac Regge un pochino Di più Ci sono Dei riferimenti Ha delle foto Anche Qua e là Che potrebbero Essere Potrebbero Centrare In questa Maddalena Come sorella Di Isaac O Isaac Stesso Travestito Mentre Eva È un pochino Più E intanto Non è menzionata Da nessun'altra parte È un riferimento Biblico Ma lo è Anche Maddalena In realtà Però La caratteristica Particolare Di Eva È che È una Teenager O comunque È un Non è un Bambino Perché è Truccata Perché c'è Il mascara Perché è Abbastanza Dark Che è Un periodo Diciamo Di età Che non è Il bambino Dell'asilo È un È un pochino Più Sull'adolescenza Come personaggio E quindi L'unica cosa Che tiene in piedi La possibilità Che Eva Rappresenti L'adolescenza Rappresenti Una sorella Di Isaac Maggiore Però ovviamente Perché tutte le caratteristiche La fanno pensare Come più grande Di Isaac Stesso Oppure potrebbe essere Semplicemente Isaac Che Rispetto al All'essere Travestito Oppure Maddalena Che Che è la sorella E Isaac Stesso Che si traveste E si trucca E quindi Prova i tacchi Della mamma Prova Queste cose qua Che magari La sua sessualità È ancora ambigua In questo periodo qua E quindi C'ha C'ha voglia Di provare Queste cose qui Potrebbe anche essere Tenendo conto Che la famiglia È abbastanza particolare Quella di Isaac Potrebbe anche essere Che ha Che ha esperienze Di questo tipo E ovviamente Sono cose possibili Insomma E quindi appunto Questa teoria Di Eva Regge un po' poco Però è possibile È sempre possibile Come cosa La cosa che mi piacerebbe Capire anche da voi Se Supportate o meno La tesi E se c'è qualcosa Che può supportare La tesi Perché Tutti i personaggi Che abbiamo visto All'interno di Isaac Sono giustificabili Con Sono Isaac Con qualche Qualche Differenza Nel senso che Isaac con la parrucca Isaac con La benda sull'occhio Diventa Caino Isaac col Fez Diventa 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 Giuda E Isaac morto Diventa Blue Baby Quindi praticamente È sempre Isaac Con qualche elemento diverso La versione cattiva Di Isaac Sarebbe Adel In teoria Che tra l'altro L'abbiamo rivisto Anche nei finali Il demone Che è praticamente Adel Uguale e identico Adel Dovrebbe essere lui O Azazel Come dir si voglia Però appunto Tanti piccoli elementi Che rendono Il I vari personaggi All'interno del gioco La versione di Isaac Con qualche modifica Anche Keeper stesso Anche Lost Lost è l'anima di Isaac Mentre Keeper È Ciò che succede Ad Isaac Dopo che muore Quindi è come se si dividesse Un corpo diventa Blue Baby E poi viene trasformato In The Keeper Che sarebbe L'Isaac morto Delle ram precedenti Quindi è un po' Particolare Come considerazione Intanto andiamo contro It leaves It leaves è Mi avete giustificato It leaves Come possibile Sorella O fratello Di Isaac Questo può essere Intanto ci prendiamo Incubus Quindi adesso spariamo Il doppio Doppio Brimstone Quindi 8 Brimstone Alla volta E ce ne andiamo A combattere Ash E vediamo come Ce la caviamo contro di lui Quindi abbiamo Il doppio Brimstone Adesso quadruplo La cosa interessante Di It leaves Però è che Secondo me È più una cosa simbolica Può essere letto In tante chiavi Come sempre Ma è più simbolico Nel senso di Intanto ci prendiamo Humble in bundle Che così prendiamo Doppie roba La cosa particolare Secondo me Di Questo tipo di 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 considerazione Di It leaves È il fatto che Quando noi Andiamo a uccidere Il cuore di mamma Oppure uccidiamo It leaves Perché prima È il cuore di mamma E poi diventa It leaves È la rottura Del legame con mamma È la 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 personificazione Come si dice La La rappresentazione Della rottura Del legame con mamma Perché Il legame con mamma È molto molto intenso È un modo per rompere le gambe Tagliare il cordone umbilicale Si dice anche È appunto Quello di Distruggere quello che era Il grembo materno Infatti siamo nel grembo materno In quel momento là E il boss Appunto è La distruzione Di Di quello che è Di quello che è Il grembo Che un po' Si rivede poi Perché Se noi consideriamo Gli step Successivi A quello Quali sono i boss Prima c'è mamma Poi c'è quello che sta dentro mamma Che è Isaac Poi se andiamo solo nella cattedrale C'è Isaac stesso E poi quello che succede Dopo Isaac Quindi sono Sono abbastanza conseguenziali È sempre È una ricerca Sempre più all'interno Della cesta In quel caso All'interno di se stessi Quindi è un viaggio Andando da chi mi ha generato Poi andando da Dove sono io All'interno di chi mi ha generato Poi andando All'interno dell'anima Di chi mi ha generato E poi andando all'interno Del corpo di chi mi ha generato Quindi È sempre di più Un viaggio all'interno Dell'animo di Isaac Da una parte E dall'altra Se invece andiamo Nella dark room È il viaggio dark Quindi il viaggio Nell'oscurità E quindi Si va verso La fonte del male Che prima diventa Il diavolo stesso E poi diventa Il L'agnello Il Delemb Che sarebbe La rappresentazione Del male di Isaac E quindi abbiamo Questo viaggio Diciamo da una parte Dall'altra Che si divide E Ha Determinate cose Ash In tutto questo Che cosa c'entra? Relativamente poco Ash è un personaggio Un po' strano Perché È molto simile A Blue Baby Però è vivo O comunque Sembra vivo Ed è un personaggio Che da come lo vedi È un personaggio Come se fosse Nascosto dietro qualcosa Perché gli occhi Non ce li ha Ma ci sono le cavità Degli occhi E quindi è come se fosse Coperto da un Lenzuolo Ed è molto simile A Heath Se ci pensate Solo che è blu Ha questo colore blu Di Blue Baby Che è il colore Della sfissia Il colore del Del cadavere Praticamente Quindi è un Ci sono dei riferimenti Come al Al bambino Che non è mai nato In certo senso Questo potrebbe essere Ash Tra l'altro Che l'abbiamo Abbiamo sconfitto Molto facilmente Quindi abbiamo sbloccato Empty Vessel E Dripping Baby Che sono appunto Empty Vessel Per aver finito Ash E Dripping Baby Per aver sbloccato Tutto quanto Di Lazzaro Empty Vessel È un oggetto Molto molto interessante Che vedremo Più avanti Quando appunto Lo troveremo E non è niente male Perché Contribuisce a fare Delle combinazioni Molto molto interessanti Abbiamo trovato Due stanze Uguali identiche Grazie anche A Liberty Cup Che ci dice Dove andare Quindi risparmiamo Anche tempo Però appunto La considerazione Che c'è di Ash Come Il bambino Che non è mai nato Si collega A quello che poteva essere Hit Leaves Perché Come una specie di E soprattutto Il fatto che arrivi Subito dopo Hit Leaves È un modo per dire Potrebbe essere Tagliato il cordone ombelicale Il feto Il bambino Non può sopravvivere Ok E quindi Ash potrebbe essere Quello che succede Al feto Dopo che è stato Reciso Dalla madre Oppure Potrebbe essere E qua mi ricollego Al discorso Che avevamo fatto prima A Maddalena Alla sorella di Isaac Che magari Contribuisce Alla teoria Del Contribuisce A una teoria Di Maddalena Come la sorella Che non è mai nata Di Isaac E quindi magari È la mamma Che reagisce In questa maniera Al fatto che Non gli è mai nata Una femminuccia Facendo diventare Isaac La figlia Che non ha mai avuto E quindi magari Ha avuto un aborto Ed è Ash Praticamente È Maddalena Che non è mai nata E di conseguenza Si vendica Tra virgolette Usa il bambino Che gli è nato Che è Isaac Per travestirlo Dalla bambina Che non c'è mai stata Quindi è un Usare Usare Isaac Come avatar Di quello che è Quello che avrei Quello che la mamma Avrebbe voluto avere Ed è una Cosa abbastanza malata Però È abbastanza plausibile Diciamo Come reazione Perché Deve esserci qualcosa Che ha fatto impazzire la mamma Non può essere Semplicemente la religione Che fa impazzire la mamma E quindi probabilmente Dal punto di vista psicologico Questo potrebbe giustificare Una reazione Di questo Di questo calibro Insomma Giustificare A livello A livello Causa conseguenza È non giustificare A livello Lo face Lo condono Non è condonare La cosa Ma è semplicemente Giustificare a livello Razionale O irrazionale Comunque Come potrebbe reagire Un cervello Di fronte Di fronte La situazione del genere E questo è Quanto Per quella che è La mia teoria Lore Diciamo Della cosa Qua whipworm Non ci fa niente Quindi teniamoci pure Liberty Cup La run sta anche Quasi per finire Visto che siamo Nella chest E ce la stiamo cavando Egregiamente Un altro personaggio Finito Tra l'altro Stiamo facendo Di grossi progressi Proprio nelle ultime run Che sono venute Molto molto bene Abbiamo avuto un sacco Di fortuna Anche con i vari oggetti Ma effettivamente È un buon vantaggio Abbiamo dei periodi In cui le cose Vanno molto bene Alcune In cui le cose Vanno molto male Quindi Il gioco è fatto Così proprio Quindi dal punto di vista Delle teorie Questa è una Delle mie tante teorie Che ho esposto In oltre 300 episodi Di questa serie Quindi Entriamo più Nel dettaglio Molti di voi Magari non seguono La serie dell'inizio Quindi vale la pena Ribadire alcuni Di questi concetti Che magari Possono aiutarvi Anche a ragionare E magari aiutare Tramite i vari oggetti Le varie cose Che troviamo All'interno del gioco Ah tra l'altro Avevo fatto un ragionamento Su Gli oggetti Che sono stati aggiunti Sono molti oggetti Che riguardano La vita di Isaac Come bambino E quindi il pigiama E anche il bicchiere di latte Pensate La colazione E qualcosa Che riguarda la colazione C'è Perché abbiamo Milk Abbiamo Che è anche Il riferimento Al latte versato Sapete Quel detto Di non piangere Sul latte versato E tenendo conto Che Isaac Piange come attacco È abbastanza particolare E poi abbiamo Appunto Il pigiama Il ciuccio E la bambolina Anche la bambolina La bambolina C'è la parrucca di Maddalena Quindi potrebbe essere Che Isaac giocava Con le bambole Cosa che potrebbe essere Tranquillamente Che è una cosa Che capita A quell'età Perché La sessualità Non è ancora Venuta fuori Del tutto E quindi è tranquillamente Plausibile Che un bambino Possa giocare Con Con le bambole E quindi può Succedere Queste cose Possono succedere Effettivamente Lato abbiamo Disintegrato Il signor Blue Baby E ce ne andiamo giù Dentro la cesta A far finita La nostra run E come potete vedere Cominciamo ad avere Pochissime Altri combattimenti Contro L'albero Per la precisione Ce l'abbiamo Solo Con Kipper Io sono Mr Brave E ci vediamo Nel prossimo programma Namaste E Brave L'albero